Gli anni 70 indubbiamente sono le grandi riforme istituzionali del nostro paese, anche la regione Piemonte è nata nel 1970, ma dopo le grandi crisi petrolifere e economiche del nostro territorio sono state anche grandi rilanci sociali, come anche quella cinematografica, e proprio qua a Palazzo Lascaris c'è stata una scena molto ripetuta di Italian Jobs, ma poi anche Torino è stata una delle vetrine cinematografiche come poteva essere dei film internazionali come Profondo Rosso.